La sconfitta di Biceglia l'ultima prima delle vacanze, oltre che essere la terza battuta d'arresto del Teramo in stagione, conferma gli interrogativi sinistri che già da qualche tempo ruotano attorno alla squadra di Massimo Paci. La fessione c'è stata ed era anche inevitabile che ci fosse dopo una partenza affolgorante che aveva lasciato molti, se non tutti, a bocca aperta. E probabilmente la partita contro la Ternana, alla quale il diavolo arrivava non da favorita, ma non certo da vittima sacrificale, tutt'altro, ha rivoluzionato completamente il mondo bianco-rosso. Non per la sconfitta, e sia chiaro, perché il Teramo aveva perso qualche giorno prima anche a Catanzaro, quanto perché alla prova del 9 ha dimostrato quanto la posizione in classifica fosse frutto di una serie di circostanze favorevoli che si incastravano con una condizione atletica spaventosa. I 90 minuti del Liberati fecero capire che quei punti di distacco che separavano allora le due formazioni erano bugiardi, troppo più completa la Ternana in ogni zona del campo, nei rincalzi, ma soprattutto in una mentalità che si costruisce con i successi e con la gestione del gruppo. E qui entrano in gioco alcune scelte di paci che da lì in poi in alcuni reparti si è incaponito su alcuni elementi senza ruotare, in altri ha ruotato senza che ce ne fosse realmente una motivazione. Quasi come se il campo non contasse più, come se le scelte fossero fatte a prescindere. Bombaggi preferito costantemente a Mungo, Santoro inamovibile anche con qualche acciacco con Arrigoni, a costo di svilere Viero, a Biscegli è spostato in maniera innaturale nei tre d'attacco. La costante rinuncia a rotazione a sinistra in difesa, così come le apparizioni e sparizioni di Iotti, di Francesco Cappa, Celentano, per poi arrivare al disastro Piacentini, un'opera di autolesionismo generata all'interno e che nessuno, comunque la si veda in società, ha saputo gestire, ovunque stiano le responsabilità. Errato non rinnovare il giocatore in estate? Errato metterlo fuori rosa? Errato pensare di poterlo sicuramente piazzare a gennaio? Errato pensare che chi lo prenderà sborserà quanto il Teramo chiede? Insomma, un vero disastro. Così come la recompra del Sassuolo potrebbe assicurare al Teramo per Pietro Cianci una cifra però già stabilita e che non dovrebbe variare poi di tanto a seconda delle reti, perché in fondo sul giocatore non credeva nessuno e quando ha cominciato a segnare nessuno ha voluto ammettere che c'era la società nero-verde dietro. Magari il direttore sportivo Sandro Federico, il tramite col Sassuolo, proverà a strappare una cifra leggermente superiore, ma è certo che quello che sta accadendo con i procuratori, casi dei rappresentanti di Birligè e Martignago al collegio di garanzia del CONI, con molti componenti dello spogliatoio, non possono che giustificare un capitombolo come quello di Bisceglie, ultimo tassello di una difesa che fino a qualche settimana fa sembrava dovesse diventare protagonista in Europa quanto a imperforabilità e adesso viene costantemente bucata, anche perché l'ASIC e Diakite recuperati in extremis sono stati buttati in campo appena c'è stato l'ok dello staff sanitario. Chiudere il 2020 in questo modo sul campo fa male, il Teramo tuttavia per ripartire deve fare chiarezza al proprio interno, forse a tutti i livelli. I risultati, quelli di inizio stagione, torneranno di conseguenza. I risultati, chelli di inizio stagione,